Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi racconto un altro vittorio, ma non è tanto, perché comunque, parliamoci chiaro, la Juventus è abituale anche a vincere, ma vittorie come queste arrivano molto di lato, visto che comunque la Juve spesso vince anche con il minimo sforzo, appunto 1-0, 2-0, 3-1, anzi, ultimamente anche con pochi, anzi un gol subito in 15 partite, però parliamoci chiaro, le vittorie così larghe alla Real Madrid, Barcellona, in Italia sono pochissime e la Juve ne fa altre tante poche. Quindi oggi assistite a una cosa che avviene pochissimo, ricordo quel Parma, e forse un'altra partita in questi 6-7 anni di vittoria, quindi chiaramente sono eventi più unici che rari. Nel caso arriva contro lo Sassuolo, quindi sicuramente oggi si sprecheranno le battute di alcuni, che per alcuni sono battute, lo scansuolo, per altri sono veri autentici complotti, che non stanno in piedi in nessun modo, perché col Sassuolo, nelle ultime 8 partite da quando è in A, più o meno, hanno vinto sempre, tranne un pareggio e anche una sconfitta. Score molto più negativo rispetto a quello che è contro il Napoli, se vogliamo, parliamoci chiaro, evidentemente il Napoli è un po' una soccorsa della Juventus, secondo chi tra loro la pensa in questo modo qua, però nessuno lo dice, nessuno lo pensa, e quindi parliamo di sconsuolo. Dalla di questo discorso qua, 7 gol, faccio anche fatica a ricordarvi, perché 7 gol non è che si ricordino così facilmente, diciamo che triplete di Guain, e questo sono già 3, doppietta di Chedira, siamo a 5, poi c'è Pjanic, con un bel gol molto bello, e un Alessandro che finalmente, gol e assist, ma anche tira fuori una prestazione molto buona. Tutto facile così, l'unica pecca è forse l'infortunio di Matuidi, perché esce con un problema muscolare, speriamo che non sia nulla di che, perché diciamo che avrei anche rinunciato a un paio di gol, ma Matuidi senza infortunio magari, che potrebbe avere, spero di no, problemi per la prossima partita. Ricordiamoci che fra due, il 13 febbraio, ci sarà una sfida importante contro il Tottenham, quindi io spero di arrivare con tutti, tranne Quadrado e Di Bala, quindi al 13, a questo appuntamento importante di Champions. La partita come si svolge? È molto chiara e molto semplice. Una partita in cui la Juve ha trovato finalmente la forma fisica, ha trovato la stabilità mentale, la compattezza difensiva dietro, anche con i cambi, perché Barzagli ha avuto un acciacco prima della partita, ha giocato Rugani, che poi è stato sostituito da Venati A, e quindi la difesa ho già detto benissimo, anche se il Sassuolo è poca cosa. Mi fa strano anche perché tra l'altro non avrebbe giocato da subito Matri, perché Matri come è entrato, quel minimo di pericolosità l'ha data lui, e non Babacar, che appena arrivato dalla Fiorentina lo mettono nella mischia e non ha fatto niente. Parliamo di Politano, di Berardi, Politano forse è quello più Vispo, Vispo è quello che ha toccato un pallone in modo decente rispetto agli altri due, e dall'apparco offensivo, però Berardi è un giocatore che ritengo mediocre, cioè che è diventato mediocre pur essendo comunque un giocatore discreto, perché Berardi è un giocatore che per fortuna non è arrivato a Juventus, e non lo scopriamo solo oggi. Per il resto Sassuolo è poca cosa, Juventus forse non è ancora il top, perché forse può ingannare una vettoria del genere, perché arriva contro una squadra che ha ben poco da dare a questo campionato, dispiace per Iachini che sta facendo un percorso decente rispetto a quello fatto da Vucchi, ma semplicemente la squadra forse non è più all'altezza, perché molti giocatori invecchiano e altri non sono forse all'altezza, semplicemente questo. Da Juventus si trova soprattutto Iguain, credo che in tutto questo discorso sia giusto ricordare di aver trovato Iguain, perché la forma di Iguain è strabiliante e l'abbiamo visto contro l'Atalanta, l'abbiamo visto oggi, l'abbiamo visto in tutte le partite recenti dopo la pausa invernale. Iguain, Alexandro che sta riprendendo, e direi anche Marchiso, che ha fatto una partita molto buona per la partita che ha fatto, perché ha giocato mi pare un tempo, mi pare un tempo sì, e quindi chiaramente Marchiso si sta ritrovando ed è importante, perché può essere una valida alternativa, lo dico spesso, sono a favore di questa cosa qua, di qui a giugno e anche oltre. Per il resto tutti bene, che dire oggi molto bene, ma veramente in una partita 7-0 non puoi dire male a qualcuno, e anche Asturaro, che dirà che quando ha palla quando vado alla perde in modo un po' stupido, però per il resto corre, corre, fa il suo lavoro, lo fa bene, qualche strafalcione, qualche scivolante, sicuramente un po' strano, lo scivolano spesso, questo raro, però diciamo che sono cose che ci stanno, e va bene così, non voglio dire nulla contro nessuno, benissimo De Sciglio, che nel primo tempo ha fatto veramente molto bene, con queste rovesciate difensive, sta prendendo molta, molta sicurezza in sé. De Sciglio ha un fisico della Madonna, è alto, mediamente alto, più di un 80, quindi non è un terzino piccolino, come i Carvacal, così, è un terzino alto, che ha una buona progressione, buona corsa, buona tutta, buona tecnica, però quando si mette in testa di fare le cose bene, perché ha dietro un allenatore che lo coccola bene, così via, fa veramente molto bene, fisicamente molto prestante, difende bene col corpo, e così via, quindi un giocatore che appena ritrova la testa, il corpo gira a grandi, a grandi veramente rendimenti, quindi molto bene, ma De Sciglio è veramente il terzino, che tutti aspettavamo, visto il calo comunque prevedibile di Licksteiner, quindi nient'altro da aggiungere, Buffon torna a Levento Stadium, dopo l'infortunio, visto che l'ultima partita era a Bergamo, quindi benissimo così, sottituti sono, beh oggi alla fine, ricordiamo la formazione giusto per di assumere, questo 4-3-3 con Bernardeschi, che è riuscito a fare una partita, Mazzucchi ci fosse più stanco di tutti, e si è fatto anche male nel secondo tempo, quindi proprio molto stanco si vede, in cui in centrocampo è il solito, con Pjanic e Matudì appunto, e Chedira, difesa oggi appunto Lugani, perché si è cercato Barzagli, poi viene sottituto da Benatia, Alexandre e Crilini completano il reparto, e subentrano appunto Benatia, Sturaro e Marchese. Tutto qua, non c'è nulla da dire, è una partita che veramente, da molti spunti fosse tattici, e dovrebbe arrivare anche, vediamo al mondo calcistico cosa mi prepara, però è anche vero che il Dapper, che comunque, Juventus ha dominato, e non ha avuto difficoltà, nessuna frangente della partita, contro un sassuolo, che ha ben poco da dire, e in fase difensiva è stata nulla. Quindi, come sempre, ci vediamo al prossimo video, Forza Juve, ciao!